Mister, è finita 3 a 1, un risultato che, diciamo così, solo 1 a 0 vi aveva fatto un po' sperare, poi però è uscito il vado ed è finita 3 a 1. Cosa vi dice di questa partita? Noi abbiamo peccato sulla possibilità di fare il risultato perché purtroppo con una suave esperta, è bravo, è arrivato. Dopo un gol ci siamo quasi seduti. Quando una squadra non fia esperta è ovvio che se non stai attento prendi i gol. Dopo che abbiamo fatto il gol abbiamo fatto quel quarto gol di sbantamento che ci ha fatto prendere gli altri gol. Però devo dire la verità che io con una squadra così giovane la faremo di mente anche ai miei ragazzi perché hanno dato un po' che potevano dare. Purtroppo le perfezioni di quest'anno si sono viste. Per dare un campeonato così difficile, con tanti fuori quota è duro, però ci abbiamo provato lo stesso. Perfetto, grazie Mister.